Questa ricostruzione la convince? Non mi convince per niente in realtà. Pier Camillo Davigo ha sempre avuto qualche soprannome, scherzosamente, naturalmente da Piercavillo ad altri. A me stasera sembra di poterlo chiamare Pieranguillo, devo dire, perché sfugge in realtà ai problemi veri. Non è vero affatto che se avesse seguito le linee formali avrebbe disvelato, non è vero. E glielo dimostro leggendole due righe della circolare che prevede i comportamenti, che è quella a cui faceva riferimento il nostro Pieranguillo. Al punto 4 di questa circolare, una circolare del 94, la 510 del 94, dice che il pubblico ministero che procede deve dare immediata comunicazione al Consiglio complico riservato al Comitato di Presidenza di tutte le notizie di reale e di tutti gli altri fatti che possono essere interessi al Consiglio. E questo lo era, perché comunque c'era un'ipotesi di prima commissione e quindi di trasferimenti d'ufficio. In più, l'ufficio procedente deve continuare a informare il Consiglio di tutto lo svolgimento delle indagini in corso. Quindi la questione era semplicissima. Avrebbe dovuto consigliare a Storari, persona peraltro che io conosco bene perché è stato mio auditore, un ragazzo molto intelligente, preparatissimo, grandissimo lavoratore, un po' ingenuo direi, certo non può conoscere le circolazioni del Consiglio, però Pier Camillo avrebbe dovuto dire, caro mio, questi che io a lui ho chiesto chiama non verbali ma documenti, che è un'ipocrisia, un saluto, sono i verbali, sono quelli, sono quelli che sono usciti, firma o non firma, gli riporta a Storari e noi che ci nascondiamo gli riporti a Storari, questo voglio dire, non ha senso. Cosa doveva fare? Doveva semplicemente dire a Pier Camillo a Storari, caro Storari, non mi devi dare questi fascicoli, questi documenti, metti una busta e chiudi, sai di un piano e vai all'ufficio di presidenza e dalle all'ufficio di presidenza, come prevede la legge. All'ufficio di presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura? Certo, gliel'ho letto un attimo fa, il pubblico mistero che procede deve dare immediata con equazione al Consiglio complico riservato al Comitato di Presidenza. Però attenzione, adesso... Non avrebbe avuto nessun disvelamento, mi sono spiegato, nessuno, perché il pubblico riservato l'avrebbero conosciuto come ufficio. Però, allora, a questo punto io dico una cosa, però.